Buongiorno amiche, yeee! Yuppi, 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 finalmente è sabato! Evviva! Sono talmente stanca amiche che questa settimana ho arrancato letteralmente verso la fine e finalmente siamo giunti al sabato con questa bellissima fascetta skinker, con queste due cornine, è un po' una fascetta da capretta secondo me, ma super simpatica. Come sempre abbiamo fatto il cocon a modi lottatore di sumo e via con un messaggio positivo. Chiedi alle tue amiche come stanno. Sì amiche mie, è molto importante chiedere alle persone a cui vogliamo bene, non solo alle amiche, come stanno e come si sentono. Preoccupiamoci delle persone a cui vogliamo bene, è super super importante prendersi cura sì di noi stesse, ma anche di tutte le persone a cui vogliamo bene e non solo, anche le persone magari che ancora non conosciamo. Se possiamo, io dico amiche, preoccupiamoci un po' in generale di tutti perché è bellissimo e torna sempre tanto affetto indietro, è veramente bellissimo. Amiche mie, stiamo già facendo skinker assieme, abbiamo applicato con i dischetti di cotone lavabili, in lavatrice e riutilizzabili il Tonic Comfort di Lancome. E via a ruota la crema contorno occhi di Shiseido che è specifica per le occhiaie. L'applico come sempre nel contorno occhi, nel contorno labbra e nello spazio, nella parte tra le due sopracciglia. E come sempre il siero Advanced Genifique attivatore di giovinezza di Lancome e massaggiamo bene con tanta pazienza per far penetrare bene il prodotto nella pelle. Applichiamo anche la crema anti-rughe di Lancome, la Rinergia HPN 300 Peptide Cream, che mi pare sia una crema infinita, amiche non finisce più, la stiamo usando da tantissimo tempo e ce n'è ancora. Nel collo invece la crema di Clarence Extra Firming Collo e Decaulté, trattamento giovinezza Decaulté Collo, Levigante e Rassodante. E non dimentichiamoci mai più la crema solare. Questa è la Daily Defender Fluido Protettivo 7 Fattori con Ginseng Indiano di Pupa con SPF 50. È importantissimo applicarla sul viso, ma anche un pochino, amiche, certamente sul collo e sulle manine. Non dimentichiamo di proteggerci, soprattutto perché le mani, amiche, si capisce subito dalle mani se stiamo invecchiando, diciamo, male, perché compaiono le macchie e via dicendo. E nelle manine applichiamo anche l'Absolute di Lancome, una crema a mani nutriente e ricostituente. E con il Lip Balm oggi vorrei, amiche, utilizzare qua insieme a voi questo bellissimo Champure di Emily in Paris, un Lip Balm super carino a forma di bottiglia di spumante, molto molto carino. Ma geni, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina, noi amiche le contrastiamo ormai, lo sappiamo, tutti lo sanno anche i muri, con il correttore e con il fondotinta. Il correttore che utilizziamo oggi è il Wonder Me, cancella stanchezza, correttore perfezione istantanea, in colorazione 030 e anche super super profumato. E rende lo sguardo disteso e riposato e ha un trattamento anti-borse e anti-occhiaie e soprattutto non segna per nulla. E come fondotinta applichiamo la Soft Touch Mousse di Essence in colorazione 04 Matte Ivory. Io devo dire la sincera verità che la prima volta, amiche, che l'ho utilizzata era un pochettino in dubbio perché non avevo mai provato un fondotinta in mousse. E invece mi è piaciuto tantissimo! È pazzesca, pazzesco questo fondotinta in mousse, devo dire che mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto. E come ciprietta oggi utilizziamo la Soft Glam Filter Powder di Catrice in colorazione 010 Beautiful You. Lo applichiamo con un pennellino ampio e come mi avete consigliato voi mi ricordo di scaricare l'eccesso di polvere all'interno, diciamo, della cipria, no? Lo scarichiamo così da non creare macchie. È super carino l'effetto! E come blush utilizziamo questo blush che è tra un viola e un fucsia di Shrek per Revolution. È super pigmentato! Guardate com'è acceso il colore! È un bellissimo violetto, secondo me, veramente molto molto carino. L'ho applicato col pennello ma poi con un altro pennello pulito a molto ampio vado a sfumare bene bene bene. E abbiamo ottenuto un effetto baciata dal sole che è veramente qualcosa di spettacolare, secondo me. Mi piace molto questo effetto pigmentato. Come bronzer per fare contour utilizziamo il Cream Chocolate Bronzer di Willy Wonka, la fabbrica del cioccolato, che applichiamo con la mossa del coniglio e sfumiamo con un pennellone molto ampio. E ora è il momento dell'illuminante! Questo è l'illuminante che amo in assoluto più di tutti di Revolution, il Rainbow Highlighter. Sapete che io amo, alla follia, gli arcobaleni, il Rainbow e questo è veramente bellissimo. Nei colori del rosa chiaro, giallo bellissimo, soft pulcino, verde molto bello, un celeste chiaro e un lilla. Quindi abbiamo ben 4-5 colori di illuminanti, ma 3, 2, 1, voilà! Utilizziamo la palette scaramantica di Bella Oggi, molto bella questa palette. Si chiama The Fortune, il ferro di cavallo. L'avevo pagata 11,90 euro al Tigotà ed è scaramantica perché è fuori amiche a tutti i ferri di cavallo. Infatti si chiama La Fortuna, è molto bella questa palette, veramente molto molto carina. E col nostro amico scotch di carta andiamo a delimitare la parte esterna dell'occhio. Applichiamo, come sempre, il primer occhi. Oggi utilizziamo l'Ultimate Pigment Base di Revolution. È molto bello questo, mi sta piacendo tanto. Bisogna applicarne poco poco, se no amiche si fa un disastro. E ora applichiamo un mix di tre colori, il violettino chiaro lilla, il rosa e l'argento. E ne viene fuori un colore che è pazzesco tra questi tre mixati. Ci sono all'interno dei colori rosati, veramente molto belli all'interno di questa palettina. E ora con un pennellino più piccino andiamo ad applicare il nero. Quindi con un pennellino di precisione creiamo la nostra mitica V nella parte esterna dell'occhio. La allunghiamo un po' verso l'alto e con un pennellino morbido morbido e un po' fluffy andiamo a sfumare bene il nero che diventa, diciamo, dissolvendolo e sfumandolo bene diventa nella parte alta un po' grigio. Molto bello l'effetto, molto soft, molto sofisticato secondo me. È veramente molto molto carino. E poi semplicemente amiche un po' di questo ombretto glitter rosa e l'effetto è subito wow! Molto molto carino, merabelligedo secondo me. Abbiamo rimosso lo scotch di carta e ora applichiamo anche il mascara. Oggi utilizziamo il Max It di Catrice che è volume e lunghezza nero amiche perché sapete che io utilizzo sempre il mascara nero. Avendo i capelli assolutamente neri non posso che utilizzare il mascara nero. E ora direi che procediamo immediatamente anche alla creazione del look occhi nel secondo occhio. Io amiche mie sono super curiosa di sapere voi cosa ne pensate del look di oggi. Lo trovate carino, vi piace, secondo me è anche un po' sognante. Io devo dire che il nero è un colore che ha delle potenzialità pazzesche nel make-up. Soprattutto nella parte ovviamente esterna dell'occhio ma anche nella rima inferiore. Uno dei prossimi giorni proveremo un effetto che secondo me è molto carino nella rima inferiore. E sono super curiosa di sapere cosa ne pensate di questo effetto ma sono curiosa ancora prima di averlo realizzato di che cosa ne penserete del look che proporrò nei prossimi giorni. È un po' una sorpresa, un look un po' diverso diciamo dal solito. Fatemi sapere se vi va come sempre nei commenti cosa ne pensate di questo look, dei colori che abbiamo scelto oggi ma soprattutto della palette della fortuna, The Fortune di Bella Oggi con tutti questi ferri di cavallo. Io la trovo molto carina. All'interno ha due ombretti glitter molto grandi e otto ombrettini piccoli che vanno nelle nuance del rosa al nero, un blush e un illuminante molto grande. Undici euro e novanta era il suo prezzo, un piccolo prezzo ma una grande palette. Come sempre un brillocchetto non poteva mancare e oggi ne abbiamo applicato uno rosa, uno stressino rosa. E ora è già il momento del fetoil di NYX, un lipoil veramente bello. Questo di oggi è rosa e si chiama Missed Coal. Veramente super profumato, super delicato e ovviamente bellissimo. E l'effetto di questo fetoil con la palette, l'ombretto di Bella Oggi mi piace veramente molto molto molto. Sono curiosa amiche mie di sapere voi cosa ne penserete, se vi piacerà. Sono anche curiosa di sapere cosa farete oggi che è sabato. Spero che vi potrete riposare e rilassare. Io come sempre mi fiondo a fare le pulizie e vi mando un bacio grande, grande, grandissimo e vi auguro un bellissimo sabato. Ciao amiche, buona giornata. Ci sentiamo nei commenti e ci vediamo nel video del pomeriggio. A dopo.